Ringraziamo il sindaco che è qua con noi e che... Pensavo ci fosse un intervento da parte di qualcuno di voi che mi aiutava poi a fare le mie quattro parole, però io volentieri saluto in vetta di sindaco ma anche di diretto interessato, quindi tutto quello che dico è condizionato dal fatto che io ho dei figli qui dentro, quindi non posso parlare del riscaldamento. La commessa l'avete vinta, siete partiti dieci anni fa e probabilmente nessuno avrebbe mai pensato che i risultati sarebbero poi da di questi, che sono i tuoi hermanini, i ragazzi e i miei venti, non è sicuramente facile, non sono la verità fatta persona e voi prendete quelli di 15 anni perché dieci anni di frutti e di questi frutti sono davvero un risultato importantissimo, io ti ricordo. Stiamo lì dove siamo, lasciamo salire al cielo il nostro palloncino, coloriamo il paese, dobbiamo abitare il luogo, dobbiamo spenderci per gli altri e l'invito è proprio questo, abbiamo percorso dieci anni belli in cui siamo cresciuti, in cui abbiamo scoperto e abbiamo fatto del nostro meglio. Allora buona caccia, buon volo, buona strada carissimi scout, ci rivediamo alla prossima celebrazione con la certezza nel cuore che oggi ripartiamo per nuove avventure, ripartiamo per portare agli altri quello che abbiamo imparato. Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, via! Grazie a tutti!